La guerra di Troia, la più nota nel mondo occidentale grazie al mirabile racconto che ne fa Omero nell'Iliade, potrebbe non essere mai avvenuta ma ha sicuramente ispirato artisti, scultori, poeti, musicisti e scrittori per molti secoli. È una storia senza tempo che parla di temi universali come l'eroismo e la violenza, l'amore e la vendetta, la speranza e la disperazione. Ora il British Museum cerca di distinguere la realtà dal mito raccogliendo 300 opere che spaziano 3000 anni in una grandiosa mostra dal titolo 3, Myth and Reality. L'amore a prima vista è il soggetto di una delle prime opere in mostra, dipinta su un'urna da un'artista ateniese nel 530 acquistare. Coglie l'attimo in cui l'eroe Achille, che ha appena pugnalato a morte Pentesilea, incontra lo sguardo della regina delle Amazzoni nel suo ultimo istante di agonia e si innamora perdutamente di lei. Un altro basso rilievo in marmo, in prestito dal Museo archeologico di Napoli, mostra l'origine della guerra di Troia dando la colpa agli dèi. Eros alato pianta il desiderio nel cuore di Paride, mentre Afrodite incoraggia una riluttante Elena e Peito, dea della persuasione, osserva la scena. Molte opere sembrano indicare che Elena non fu rapita da Paride ma fuggì volontariamente con lui per amore, una passione orchestrata dagli dèi che si divertono a giocare con gli esseri umani. Uno splendido affresco da Pompei mostra Elena mentre sta per salire sulla nave che la porterà lontano dal marito Menelao e dalla sua casa, con l'aria smarrita e uno sguardo mesto come di presentimento per i terribili eventi che la sua fuga avrebbe provocato.